buongiorno cari amici social spettatori siamo in boss academy qui a cassano magnago abbiamo un ospite d'eccezione james maury direttamente da lugano buongiorno james giorno come va bene grazie so che nell'aria ci sono tante novità siamo curiosi di conoscere la tua realtà la tua attività parte nel 1945 mio nonno aperto il negozio di barbiere nel 1945 ed allora è stato un continuo sviluppo fino ad oggi ad avere questo questo bel concert store a lugano dove racchiudo un insieme di diverse attività tu definisci va oltre il salone di parrocchiere centro estetico vorrei che offra altri aspetti sempre connessi al mondo della bellezza e del lifestyle eravamo proprietari di un negozio di barbiere un negozio parrucchiere per signore e un'estetica e per poter creare sinergia tra i negozi abbiamo poi deciso di andare in un ambiente unico ma sempre tenendo le anime diverse cioè un uomo vuole andare dal barbiere vuole andare dal barbiere non vuole andare in un negozio da donna e farsi tagliare la barba o farsi fare i capelli quindi volevamo uno spazio grande dove poter tenere diverse anime in più volevamo creare un punto di incontro per la nostra clientela con i nostri collaboratori loro abbiamo pensato di introdurre un bar che poi dentro un bar ristorante tutto funziona sinergicamente cioè vuol dire un'attività chiama clientela per l'altra attività e perché non metterci uno shop con tutte delle cose molto ricercate appunto sul lifestyle adesso che va molto di moda il barbiere che sta tornando di moda la cura dell'uomo quindi tutti i gadget per uomo barba o gadget proprio di lifestyle hai qualcosa in particolare da dire ai nostri amici parrocchieri tuoi colleghi come come consiglio di imprenditorialità di provare e di osare le mie idee per il suo stile sì allora cerco di capire innanzitutto che cliente ho davanti lo lasci fare o vai avanti tu no no io chiedo sempre cosa si aspetta cosa vorrebbe cosa e se vedo che per me secondo il mio punto di vista è su una strada sbagliata o da poter correggere o da poter magari dargli qualche consiglio di consiglio naturalmente quasi sempre quasi tutti i clienti ti seguono il consiglio che li dai e poi ne sono soddisfatti però sempre ascoltando bisogna sempre imparare ad ascoltare molto e cerca di capire la persona che è davanti una domanda mi sorge spontanea in molte interviste la maggior parte sono tutte parrocchieri non tutte acconciatrici di don si sa la bellezza è don ma dal punto di vista dell'uomo quanto è civetto l'uomo quando viene da te quanto gli piace pavoneggiarsi che molto tanto anche gli uomini come non pensavo quando ho aperto l'estetica al centro estetico che quasi a metà della perte delle persone che lo frequentano sono uomini io non direi civetto si cerca di diventare un po più curati il barbiere alla fortuna crea una sorta di salotto dove racchiudere le varie classi di lavoro qualche chiacchiera dallo sport alle notizie di politica e si riesce a come si può dire a livellare una sorta di direttore d'orchestra ti senti più artista o più operaio sono quello che concretizza le idee in questo caso del concept store e la vena artistica più di mia sorella io sono quello pragmatico che concretizza quanti quanti siete in negozi 26 collaboratori specializzati nel proprio settore ho sempre sognato venire nel tuo nel tuo barbershop si può definire anche così è barbershop io ho ricreato il barbiere il barbershop è stato ricreato esattamente con qualche accorgimento come quello di mio nonno del 1945 come hai conosciuto la boss allora la boss cercava un sistema che potesse appunto gestire questo nuovo negozio nel suo complesso tramite un rappresentante della cara stars che era molto contento di questo sistema e poi salta fuori che questo ragazzo del negozio era un mio vecchio abbiamo fatto l'apprendistato insieme allora lo chiamo e mi ha detto che era molto contento e da lì è partito il contatto e capito cosa avevamo bisogno e quindi e stiamo diciamo lui ti ha aperto le porte del cambiamento e noi usavamo casse registratrici è arrivato marco quindi computer stampante lettore schede fidelizzazione perché parliamo di nuova era perché l'organizzazione giusta fatta al momento giusto e soprattutto in un periodo appunto di di cambiamento serve a dare una sorta di soluzione ad un salone secondo te al giorno d'oggi quanto è importante avere un sistema informatizzato del proprio salone di bellezza quando un negozio comincia a crescere bisogna sistema informatico di controllo e di ricordo di poter uno store uno store e organizzazione gestione comunicazione che peso dai a queste attività in un salone di acconciatura allora il sistema ti dà già dei buoni punti di riflessione per organizzare dei processi può fare delle riflessioni per poter migliorare l'organizzazione dell'azienda che percentuale diamo un terzo un terzo un terzo ci bisogna una comunicazione comunque per uscire per farsi conoscere l'organizzazione importantissima se l'azienda non funziona la gestione che quello che mi occupo in azienda è un'altra parte molto importante dove vai a tarare ed equilibrare tutto quello che necessita nell'azienda stiamo facendo un lavoro di rete di impresa per condividere ognuno le proprie competenze cosa ne pensi al riguardo boss nasce se ben mi ricordo per parrucchieri o estetiche giusto adesso siamo allargati appunto al bar e allo store oggettistica quindi stiamo insieme elaborando una piccolezze dei problemi del da poter creare un gestionale oserei dire quasi perfetto chi è che ti sta seguendo samuele samuele mi segue adesso prima mi seguiva cristiano adesso ho passato la palla samuele si può annunciare qualcosa sviluppando un'applicazione android per la gestione del ristorante per la gestione del ristorante è fatta su richiesta su richiesta di james e su specifici di james noi abbiamo cercato di adattare le sue specifiche anche specifiche più largate stamattina gli ho fatto una preview mi sembrava soddisfatto quindi state sviluppando un'applicazione apposita per per la tua per la tua attività adesso stanno sviluppando sì diciamo di sì che dopo loro potranno altri imprenditori come me che cercheranno di sviluppare i propri negozi parrucchiere con un annesso un connesso sarà molto più versatile il programma boss sarà non dico a 360 gradi ma coprirà una fascia di mercato più ampia e io come imprenditore e come organizzazione tornando l'organizzazione ogni sera ogni settimana ogni mese o da un programma tutta la visuale di cosa è successo nella giornata sia che sia un ristorante che siano un parrucchiere che se nello shop che sia perché giustamente l'importante è avere tutto sotto controllo deve tutto sotto controllo è bello poter lavorare sinergicamente per qualcosa di bello insomma che sicuramente andrà bene sia noi che voi e per poter promuovere qualcun altro quindi il messaggio è chiaro organizzazione fondamentale noi ringraziamo james maurie perché come si dice il tempo è denaro deve mandare adesso ritorna ritorna a lugano cari amici social spettatori grazie dell'attenzione buona giornata e a presto ciao